Al cinema è un'altra cosa, più grande, più magico, immenso. Dal 14 settembre torno a scoprire il fascino di vedere il cinema al cinema. Ogni secondo mercoledì del mese il biglietto costa soltanto due euro. A qualsiasi orario in tutta Italia. Cinema Today. Al cinema è un'altra storia. Al cinema è un'altra storia. Al cinema è un'altra storia.